Ragazzi vi ricordo che se volete un account moddato su GTA 5 o la serie Call of Duty potete scrivermi sulla mia pagina Omega interagendo con me e inviandomi un messaggio dove troverete affidabilità, onestà e serietà In alternativa potete scrivermi sul mio profilo privato Anthony Rossi con questa foto, potete inviarmi anche qui un messaggio C'è anche il mio sito omegaofficial.it dove potrete consultare i vari listini con i vari prezzi e a scegliere la mod che fa per voi Per Playstation modificate, PS3, PS4 e tanto altro potete scrivere su Facebook a MaxLab Vi risponderemo il più presto possibile, trovate tutti i link in descrizione Signori, io oggi sotto le vesti da contadino scriveremo la storia su GTA 5 E vi preannuncio già da adesso che se questo video raggiunge i 2000 mi piace, dai sono anche buono Lo usiamo anche su PS4, quindi mi raccomando datevi da fare Beh raga ormai insomma avete già capito di cosa tratta questo video e cosa parliamo Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su questo nuovissimo video su GTA 5 perché oggi sfideremo tutte le leggi della fisica E vedremo i server cosa ci faranno Perché come avrete ormai capito metteremo la bellezza di 4 trilioni su GTA 5 Adesso non mi ricordo se sono esattamente trilioni o triliardi Un numero a 16 cifre Esattamente ora vi dico perché ho anche il computer perché ora vi spiego Metteremo i soldi dal tool Anche se abbiamo il mod menu con cui poterli aggiungere Vi dico che vedremo quanto i server della Rockstar supportano i soldi Quindi metteremo soldi, 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 soldi Finché il server non esplode, non ci fa più caricare soldi, finché non frizza O roba del genere, questo video sicuramente durerà 50 minuti e farò un bordello di tagli Motivo per cui, come ho detto all'inizio, 2000 mi piace e questo account lo trasferisco subito Come vedo 2000 mi piace su PS4 Ragazzi, lì c'è veramente il delirio, quindi conto su di voi Allora, intanto qui abbiamo il computer Quindi anche voi sotto i commenti esattamente quanti soldi abbiamo aggiunto Bene, qui abbiamo il joystick, quindi oddio perché tra l'altro il rango 8000 non ci può mai mancare E poi come sono vestito, sono vestito come se dovesse andare dal mio matrimonio Ragazzi, non vi sposate mai Ecco, tra l'altro devo anche cambiare il rango perché questo account non lo voglio il rango 8000 Voglio un rango pulito, 120, 300, ma vediamo E i soldi schizzati all'assimo, quindi poi magari mi vado a cambiare, aggiusto il rango, aggiusto un po' tutto Ok, allora, che direi che possiamo iniziare? Qui abbiamo il computer, il joystick ora lo lasciamo Qui abbiamo la bellissima Siris, siamo davanti al negozio, casomai è venuto appunto a cambiare E direi di iniziare Quindi il tool è il solito Ora ragazzi, vedete il tool che appare in basso a destra, allo schermo E in questo preciso momento noi metteremo i soldi Benissimo, allora, qui abbiamo già il tool, quindi metteremo su recovery Che sarebbero un miliardo, quindi andremo a botta di un miliardo finché non si sovraccarica Bene ragazzi, quindi io vi dico, chiedi Siete tutti pazienti perché vedremo i risultati di questo esperimento Perché se vi piace posso fare anche una serie su quello che volete da sperimentare Queste bordelli qua, quindi mi raccomando Siamo partiti ragazzi Ed ecco qui siamo già in 2 milioni, 3, 4, 5, insomma Non si sa a quanti miliardi arriveremo, scusate Sono solamente che a un tot di numeri il gioco frizza E quindi cercherò di salvare appunto il momento in cui, prima che frizza Quindi dovessero anche bravo a capire perché devo salvare i soldi Se no perdo tutto Soprattutto devo anche muovermi se no mi caccio dalla sessione Anche perché si sono in pubblica Sì esatto, sono anche in pubblica Quindi ragazzi, mi raccomando E mi piace Commentate soprattutto se riuscite a capire la cifra Di quanti soldi carichiamo Bene, adesso vediamo a quanto siamo arrivati Dovremmo essere arrivati a quota 100 miliardi Sì, dovremmo essere arrivati a 84 miliardi 87, 88, 89, 90 Miliardi Corrisponderebbe anche a un bilione Ovvero una cifra ancora più grande del miliardo Quindi ora noi continuiamo ad aggiungere soldi Finché il server non ci andrà Intanto io dico ragazzi che riesco a fare due cose contemporaneamente Perché sono multitasking E direi anche di cambiarci il vestito Tanto i soldi qui continuano a salire E insomma ci vediamo un nuovo completo Allora, completi di lusso Vediamo che ci abbiamo qui No, ma questi non mi piacciono Qui i soldi continuano a salire Non vorrei frizzarsi se faccio vedere insieme No, non mi piace Dai Completo festivo Vabbè questo è di Natale, è classico Dai, io direi completi designer Questi sono anche figli Come cazzo sta vestito? Mamma mia, è proprio figo È il tamarro Questo è il tamarraggine Ah, così da Così, con i pantaloni Da foresti Da boscaiolo Insomma Ok, quindi il vestito abbiamo cambiato Poi magari lo ricambiamo Ah, devo anche abbassare il rango Quindi Vi ho detto che farò milioni di tagli Perché devo abbassare il rango Cambiare sessione Aspettare che il registra E qui che chiamano E qui di là Quindi ragazzi Veramente Sarà davvero impegnativo Oh, qui invece siamo arrivati a 200 Sì, siamo arrivati a 230 ragazzi Sarebbero 2 milioni quelli 527 miliardi 526 milioni 450 mili Insomma Già a sé Non riesco a capire Comunque A questo punto Io direi di fare un taglio E noi ci becchiamo direttamente Perché se no Vedete ragazzi Metto troppo Attaccio anche sul computer Ci vediamo direttamente Quando ho superato Una certa soglia Così potete dare Che cambio anche il rango Cambio sessione Cambio tutto Anche i soldi Scusate anche i costume Perché questo account Lo voglio pulito Ragazzi Vi dico già Che questo account Trasferisco su PS4 Quindi potete già Aggiungerlo su PS4 O 2 mila Mi piace O no Il video Non lo faccio Ma comunque lo trasferisco Quindi Il nome è quello lì I'm on my gods Quindi potete inserare Ad aggiungerlo su PS4 Bene Io direi che Noi ci becchiamo Ragazzi Io Non so come dirvelo Spero siete pronti A questo impatto E vi dico Soltanto E faccio del computer Che quando Avevo iniziato Qui Dove è segna l'orario Non so se lo vedete Era precisamente Mezzanotte E 25 E qui sono L'1 E 20 Tralasciando il cambio Di sessione Il rango Che ho impostato Poi mi sono messo Un po' a cazzeggiare Perché avevo messo I soldi in contatto Mi sono risolto Che era meglio Dobbiamo metterli in banca Per farli passare Quindi motivo per cui Io No ragazzi Lo devo farvi vedere Non posso Non farvelo vedere Dobbiamo andare con la telecamera Perché c'è una televisoria Adesso che porto il compito Lo faccio vedere Cioè no ragazzi Io Cioè no Ve ne dovete rendere conto Perché Se vi dice State pensando Che io sto dicendo Cazzate Ma guardate Ora Ora ve lo faccio vedere Aspetta che lascio il joystick Allora Come vedete Questi Sono i fottutissimi soldi E questo Vabbè Qui ho basato il rango Vabbè Qui ho messo la mod di Gesù Perché Sinceramente Mi stavo annoiando Ma Guardate L'account È lo stesso Dove dovete Assolutamente Aggiungermi Su PS4 E adesso Ragazzi Cioè Voi vedete Quanti cazzo Quanti sono Quanti cazzo Di soldi Ho messo In questo fottutissimo Account Adesso vi dirò Anche di più Perché Vi stete chiedendo Quanti sono questi Adesso ve lo dico Questi sono 4 biliardi Come il numero 4 biliardi 949 mila Bilioni E poi non si capisce Più 2 mila Mi piace Adesso Vi dovete mettere Vi spiego Allora Questi saranno Precisamente Non sono nemmeno io Ora vi spiego Questi saranno 4 4 biliardi 949 Bilioni 670 Miliardi E poi 670 miliardi 704 Miliardi 185 No Sì 418 930 Cioè ragazzi E' troppo difficile Anche per me Capire La numerazione Di questo account Comunque Questo è tutto ragazzi Cioè rendetevi conto E nulla raga Quindi come vi ho detto Scusate se sono impazzito Sono andato a televisore Avete visto Doppia schermata Comunque E per farvi capire Vabbè ho messo anche Il modello di Gesù Perché mi stavo annoiando Non sapevo che fare Quindi cambiavo un po' i modelli Come vi ho detto Il rango L'ho basato a 120 L'ho pulito I soldi Sono 4 biliardi Come il tavolo Quando si gioca a biliardo La stessa parola Sotto che si dice Biliardo a numero Questi sono Il massimo Dei soldi Caricabili Su GTA 5 Voi direte Omega se mi possono caricare Altri Lo scoprirete a fine video Perché se è frizz O almeno Non so di aver finito il video Qui questo account 2000 mi piace Lo trasferisco Su PS4 Compriamo di tutto Lo faccio anche usare Alla mia ragazza E se arriviamo A 3000 mi piace Quindi vedete voi Dove volete arrivare Cosa volete fare A prescindere 2000 mi piace Lo trasferisco E nulla Qui c'è questo qui Che si chiama Bruno BAM Prendi un cazzotto C'è la data Il ragazzo è sceso Pure Gesù Darcelo in persona Quando ho messo tutti quei soldi Cioè Voi non so se vi rendete conto Di quanti soldi Ho appena cacciato Sui server di GTA E sapete che E' impossibile Far passare i miliardi Su PS4 Figuratevi I biliardi Strana da dire Sta frase Comunque si ragazzi E' passato tutto Cioè Tutto liscio Quindi vedremo anche Il trasferimento Se farò il video Se soprattutto lo volete Quindi ragazzi Per questo video Magari Mò mettiamoci un po' A cazzeggiare Che vi devo dire Cambiamo un po' Mi raccomando Un bellissimo mi piace Se vi è piaciuto Soprattutto Ditemi nei commenti Se riuscite a capire La numerazione Esatta Di questo numero Che ho messo E Non so Ditemi anche Se volete Che faccio qualche altro Tipo di esperimento Se volete Qualche tipo di video strano Non so Ditemelo voi Comunque si A questo account Lo passeremo assolutamente Su PS4 E se volete E se volete un account No Così ragazzi No Non metto tutti quei soldi Perché così Io sono modere E mi assumo La responsabilità Del mio ban Ma il massimo Di soldi Che vi metto È 400 miliardi Massimo Perché se si arriva A quella cifra Rischiate veramente Non il ban Della console Rischiate il ban Della casa Che la rockstar Viene a casa E vi sfratta di casa Comunque raga Per questo video è tutto Spero il video vi sia piaciuto Rimettere un po' A comprare Un po' di cose Mi raccomando In descrizione Ragazzi Link se volete Un account Un dato Link Seguitemi su Instagram Facebook Insomma ovunque Anche perché ci sono Tante novità Che faranno in questo periodo E che saranno anche Scelte da voi E io adesso Non so Per farvi vedere Che non sto dicendo Cazzate Poi magari Snelliamoli un po' I soldi Perché sono veramente Troppi Sono troppi Finora Non ho mai visto Nessun canale Né in Italia Né nel mondo Che ha fatto una roba Del genere E quindi Spero sinceramente E vivamente Che il video da voi Sia stato apprezzato Ragazzi L'ultimissimo avviso Mi raccomando Non fatelo a casa Perché così Rischiate proprio Che la Rockstar Vi fa espatriare Dall'Italia O in qualunque paese Siate Anche Dal Muali Dal Gandhi Cazzo Che sto dicendo Vi fa proprio Espatriare Dal vostro paese D'origine Vi fa andare In costa Da voi Quindi detto questo Io adesso Mi diverto Con tutti quei soldi Non so Magari Di dono Perché Adesso Trovo una mod Per dare i soldi Su PS4 No magari Si stesse Qui si è spacciato il tasto Questo continua a seguirmi Adesso Tu hai capito Che io Me ne vado Prendo il volo E andiamo dritti Su PS4 Cioè non lo faccio Il trasferimento Proprio prendiamo il volo Con la macchina Raga E andiamo dritti Dritti su PS4 Di arroganza Di arroganza E ignoranza Andiamo direttamente Su next gen Questo Non lo vedete Da nessun mod Che non è Vantarsi O altro Ma raga Quando si è vista Una cosa del genere Non penso Nessuno L'abbia mai fatto Beh Dobbiamo essere sinceri Nessun mod Era in Italia O nel mondo L'ho fatto Se l'avete fatto Visto anche da qualche parte Commentate Ditemelo E vi dico Minchia Gli stringo la mano Sti cazzi Tanto di guadagnato Quindi Il video comunque Finisce qui E noi ci sentiamo Nel prossimo video Mi raccomando Spoliciate più Non posso Omega Kotsu Vi saluta S perché è un prossimo video Ciao 4 biliardi Che scifrare